Ciao, nella lezione di oggi facciamo un po' il punto della situazione sulle presentazioni. Diciamo che dobbiamo fare una presentazione, quindi accediamo alla nostra home page di Canva e scegliamo presentazioni. Cosa succede? Succede che mi viene aperta una galleria di modelli che potrebbe farmi perdere molto tempo, nel senso che ora che me le sono guardate tutte è difficile. Se io apro vedi tutto, capisci che certo vedo tante belle cose, però se non ho già chiaro in testa quello che voglio fare, ora che le ho passate tutte, si è fatta notte. Allora, io ti suggerisco, per evitare di perdere del tempo, di fare in questo modo. Allora, ripartiamo dalla pagina iniziale e apriamo un progetto vuoto. Poi scegliamo un modello. Devo fare una ricerca di geografia, voglio fare una presentazione di un argomento geografico. Vedi che io avevo già provato prima, infatti me lo mette in recenti, però fingiamo di rifarlo per la prima volta. Allora, geografia. Che cosa mi trova? Mi trova, ad esempio, queste presentazioni che sono già pronte. Allora, io scelgo questa, oceani e continenti. Quando io clicco su un modello di presentazione, nella barra laterale mi si aprono tutte le pagine comprese nella presentazione che ho scelto. Allargo così li vedi meglio. Ecco qua. Quindi partendo da una pagina tipicamente copertina, pagina, pagina di sommari, pagina per spiegare i contenuti che voglio inserire e poi delle pagine finali, vedi riepilogo, argomenti successivi, fonte, perché io posso aver usato durante la mia presentazione dei filmati di YouTube, delle fotografie, dei testi, ricordati sempre che bisogna citare la fonte. Cioè, l'ho già detto, mi sembra, in qualche tutorial precedente, ma non mi stancherò mai di ripeterlo. Tutte le volte che noi utilizziamo materiale prodotto da qualcun altro, materiale di qualsiasi tipo, tra l'altro dopo aver verificato che io lo posso usare questo materiale, devo citare la fonte, cioè devo dire che quel video, quella fotografia, sono stati realizzati da Pinco Pallino. Dove lo metto? Posso metterlo direttamente sotto l'immagine o il video, oppure posso metterlo in una pagina finale dove raccolgo tutte le fonti che ho utilizzate. Alla fine poi, Canva ti dà sempre la pagina delle risorse, che poi andremo a vedere più da vicino. Adesso ritorno alla dimensione originale, ecco qua, del mio video e diciamo che ovviamente parto dalla copertina. Dunque, io volevo fare un lavoro sugli oceani, quindi ho scelto questa perché mi sembra che si adatti già come stile, però tu lo sai, io posso cambiare qualsiasi elemento. Ti ricordo che è sufficiente passare con il mouse sopra gli elementi e io capisco quali sono e in che modo quindi io li posso utilizzare, spostare, cambiare di colore, cancellare, aggiungere di nuovi. Intanto, oceani e continenti no, perché io voglio parlare degli oceani e quindi cambio il mio titolo e scrivo semplicemente gli oceani. Questo è un testo che mi viene proposto. Ti ricordo che attraverso questo menu io posso cambiare lo stile del mio testo e metterlo come voglio nel caso questo non mi piaccia. Posso anche, ti ricordi, modificare l'orientamento della scritta. Anche questo andrà modificato e qui io scriverò il nome dell'autore. Bene, ho fatto la mia prima pagina. Diciamo che la copertina mi va bene così. Adesso torniamo alla mia presentazione. Questa era la prima pagina, si tratta di scegliere la seconda. Scegliere perché non è che se tu hai scelto questa presentazione che ha 17 pagine significa che tu le devi utilizzare tutte. Assolutamente no. Utilizzi solo quelle che ti servono, né più né meno. Allora, vediamo questa. Aggiungere come nuova pagina? Certo, aggiungo come nuova pagina. Perché mi viene fuori questa scritta? Perché io ero nella prima pagina, non l'ho aggiunta qua sotto. Se io avessi prima aggiunto la pagina e poi avessi cliccato, vedi che non mi avrebbe chiesto nulla. Siccome invece io sono partita direttamente da qua, il sistema ti chiede se vuoi sostituirla o se ne vuoi aggiungere un'altra. Questo è comodo perché magari sulla pagina precedente ci avevi lavorato per mezz'ora e poi cliccando e commettendo un errore rischiavi di cancellare il tuo lavoro. Di nuovo, io qui posso modificare quello che c'è scritto. Ad esempio, non voglio le scritte ma voglio inserire all'interno di questa forma una fotografia. O ce l'ho già pronta sul mio computer perché sono stata al mare e voglio mettere una foto che ho fatto quest'estate. Oppure, come al solito, vado, clicco Oceano e queste sono le fotografie che mi vengono proposte. Io decido di mettere questa con i delfini, guarda che bella. Mi è bastato cliccare, ovviamente è troppo grande, questo lo cancello perché tanto toglierò anche questa scritta e qui inserirò la mia fotografia. Ti ricordo che oltre a rimpicciolirla, io posso anche modificarla in altri modi. Una cosa che non abbiamo ancora visto è questa. Se io apro modifica immagine e poi scorro verso il basso, ecco, ti sconsiglio vivamente di usare questi filtri perché le fotografie poi si rovinano. Però qui, vedi che c'è, potrebbero anche piacerti. Che cosa? Proviamo qui. Metti un'ombra. È la prima volta che utilizzo questa applicazione. Allora vado qui sotto dove c'è USA ed ecco che mi vengono presentate queste possibilità. Questa potrebbe essere carina perché sembra una fotografia attaccata, vedi? Vedo che ci sono dei filtri, clicco e qui mi dà la possibilità di modificare la curva. Vedi che si appiattisce, va dall'altra parte. Ok. Questo mi cambia l'ombra. Qui mi fa diventare l'ombra più scura o più trasparente. E qui più sfocata oppure più nitida. Benissimo. Potrei addirittura cambiare il colore dell'ombra. Al solito, quando io clicco la casellina del colore, vedi che per prima cosa mi viene dato la gamma dei colori che sono usati in questo documento. Però come al solito io posso anche decidere che la voglio grigia, no? Però io la lascerei scura così si vede bene. Come è venuto? Abbiamo attaccato un'immagine di questo tipo. Già che siamo in tema, torno su modifica immagine. Vedi che adesso ormai me l'ha aggiunto, no? Perché io l'ho usato. Un'altra cosa che potrebbe tornare utile tra i vari pasticci che puoi usare è questo. Cornici. Al solito, quando tu lo usi per la prima volta, devi fare così. Usa. Facciamo così. Io metto questa immagine. La metto qua. Poi gli dico modifica immagine. Andiamo a prendere le cornici. Guarda che cosa succede. Se io avessi bisogno di inserire la mia immagine fingendo che ho aperto un computer, ecco che mi viene presentato quello. Oppure, vediamone qualcun'altra interessante. La riproduzione di un cellulare. Posso aggiungere le cornici colorate. Posso aggiungere delle cornici colorate. Queste sono un po' terribili, ok? Però potrebbero servire. Delle cornici di questo tipo. Oppure delle cornici in questo modo qui. Come se ci fossero delle pennellate di colore. Lo posso trasformare anche come forma. Guarda quante ce ne sono. Posso farlo diventare un quadro vero e proprio. Qualcosa di decorato. Ora, è evidente che tutte queste cornici adesso non c'entrano assolutamente niente. Però, te le ho fatte vedere perché abbiamo scoperto che ci sono altre possibilità che non avevamo visto in precedenza. Se non mi interessano le cornici, non faccio altro che cliccare su nessuna e le cornici mi vengono tolte. Allora, torniamo alla nostra pagina su cui stavamo lavorando. Qui la cornice non serve perché l'immagine è già inserita in una forma. Vediamo adesso di inserire invece da questa parte un video. Come faccio? Sempre il solito discorso. Vado in questo caso su video. Clicco oceano. E vado a prendere, ecco questo qui, della medusa. Lo rimpicciolisco. Ma io posso fare anche delle altre cose che sono le stesse che posso fare sull'immagine. Voglio che si veda solo la medusa. Lo taglio. Posso ritagliarlo. Prendo le manigliette. Vedi che si crea una griglia che mi aiuta? Benissimo. Lo stringo di qui. Lo stringo di qua. E poi gli dico fine. Ecco fatto. Ho tolto quella parte di mare che non mi interessava. Ma voglio di più. Voglio che la mia medusa nuoti verso l'alto. Sappiamo che io gli dico capovolgi verticalmente ed ecco che la mia medusa andrà verso l'alto anziché verso il basso. Se io volessi inserire una pagina come questa, non faccio altro che dirgli, una volta selezionata la pagina, duplica pagina, perché è importante duplica pagina? Perché guarda quello che succede se io clicco. Guardiamo qui sotto dove sono presenti, ecco qua, vedi? Canva mi ha messo due pagine uguali. A cosa mi servono due pagine uguali? Mi servono perché io in questa pagina numero tre voglio cambiare contenuti. Quindi cancellerò la fotografia, cancellerò il video, ma voglio tenere gli stessi elementi. Poi li posso cambiare, ad esempio questo corallo lo voglio mettere rosso corallo. Questa conchiglia la farò giallina e questa qua invece la faccio un po' più scura. Ah ecco, cambiamo anche il cavalluccio marino. Il cavalluccio marino lo facciamo, un colore che non esiste, vabbè insomma lo facciamo lilla. Non è molto scientifico però insomma è bello, ci sta bene. Quindi il vantaggio è che se questa impostazione con questi elementi, con queste due forme, con questa grafica mi andava bene, io non faccio altro che dirgli duplica la pagina, poi nella seconda pagina io posso scrivere tutto quello che voglio. Posso anche cancellare questo testo e posso decidere che ne inserisco un altro. Ecco qua, adesso io non sto a scrivere nulla perché tanto non ci interessa, ok? Posso però aggiungere quello che voglio. Ti ricordo che quando si aggiunge un elemento, l'ultimo elemento aggiunto è sempre al livello più alto. Vedi che tra questo elemento e questo, l'elemento della conchiglia risulta in secondo piano perché aggiungi un'intestazione e l'ho messo dopo. Ti ricordo che se io volessi cambiare posto, seleziono l'elemento che mi interessa, vado su posizione e gli dico portalo avanti. Ecco qua, poi lo posso magari sistemare così perché voglio che si veda un pochino della conchiglia sopra. Un'altra cosa, diciamo che questo stile non mi piace e vado a prendere, ne vado a prendere un altro molto diverso. Ecco, ad esempio scrittura a mano. Se io qua scrivo scrittura a mano, quindi vediamo un'altra funzione dei font, no? Io posso utilizzare la casella di ricerca anche all'interno dell'elenco dei font. Vedi che mi dà tutti i font che ricordano la scrittura a mano. Anche qui è molto bella, però stai attento a scegliere una scrittura che comunque si capisca. Che non sia troppo complicata perché poi qualcuno potrebbe avere difficoltà a leggere. Prendiamo questa qua. Ecco, io poi lavoro, scrivo degli altri testi qui, aggiungo delle cose e poi mi rendo conto alla fine del mio lavoro che questo però è brutto. Oppure io qui ho scritto tante tante cose. Insomma, non mi piace perché qui c'è un tipo di font, qui ce n'è un altro, qui ce n'è... Non va bene, abbiamo fatto tutto un discorso, ti ricordi, sullo stile. Quindi io voglio che tutto quello che c'è scritto in questa pagina abbia questo stile. Allora, certo, io posso andare a selezionare ogni elemento. Qui potrebbe anche essere facile perché tanto ne ho soltanto due. Ma tu immagina di avere tante scritte diverse e doverle selezionare tutte. No, allora faccio una cosa molto più semplice. Scelgo qual è lo stile che voglio. Mi metto qui sul pennello, vedi che c'è scritto copia stile, lo copio. E poi ovunque io vada mi viene copiato lo stile iniziale. Certo, poi starà a me rimettere a posto le cose perché se questo è un sottotitolo ovviamente dovrà essere più piccolo. Se questa è una casella di testo e deve stare in una forma allora dovrò chiaramente distribuire il testo in un altro modo. Però vedi è facile perché qui ci sono le mie manigliette e io scelgo, ecco qua, e sistemo, ho sempre, vedi, le mie linee guida che mi aiutano a centrare il testo nella forma. Quindi abbiamo visto un'altra cosa. Questo mi fa copiare uno stile e poi tutte le volte che io vado su un altro font, un'altra scritta, me lo mette, me lo mette nello stesso stile che ho scelto. Che cosa posso fare io? Posso fare anche un'altra cosa. Posso fare dei collegamenti esterni. Allora, diciamo che qui di fianco io scrivo Stella Marina, vediamo se mi dà qualche foto, sì, guarda che bella questa qui. La prendo, la metto qui nella mia forma e poi ho cercato su YouTube un video. Adesso io prendo la prima perché... Sì, questa va bene, si sente anche il rumore del mare. Ok, che cosa posso fare? Intanto copio l'indirizzo di questo video. Torno qua, clicco l'immagine, clicco i tre puntini e gli dico Metti un link e poi qui incollo Cosa succederà? Succederà, ma lo vedi solo nella presentazione, che quando cliccherai sopra l'immagine della Stella Marina si aprirà il video sulla Stella Marina. Dopo lo vediamo insieme. L'ultima cosa che si può fare per terminare la presentazione è tornare sul modello che abbiamo scelto ecco qua, vedi, ti ricordi e voglio farti vedere la famosa ultima pagina allora aggiungiamo una pagina vuota, clicchiamo questa, ecco qua Pagina di risorse, perché? Perché qui ci sono tutti gli elementi che sono stati utilizzati nelle pagine della presentazione che io posso prendere e io li posso prendere e sistemare in altre pagine Facciamo un esempio seleziono questo gli dico copia oppure lo posso fare anche dai tre puntini poi mi metto su una pagina della mia presentazione Incolla Ecco qua Vedi che è stato riportato lo stesso elemento che siamo andati a prendere da questa pagina di risorse Ovviamente anche questo elemento come per tutti gli altri può essere modificato a tuo piacimento Quindi alla fine di tutte le presentazioni di tutti i modelli di presentazione di Canva troverai sempre la pagina delle risorse dove sono raccolti tutti gli elementi utilizzati